Stai benissimo, comandante. Un figurino. Prima il dovere, poi il piacere. Signor sì, signore. Come fate a mantenere la calma? Beh, so che avete affrontato un razziatore che combatteva un divoratore, quindi stasera... Rilassati, Brooks. Ok, va bene. Al lavoro. Sei una bomba, cosa? Nel senso di splendida o più esplosiva del solito? Perché non entrambe le cose? Ho le palpitazioni. Chissà. Oh, si vede ancora la ferita. Il Medigel dovrebbe assumere la pigmentazione della pelle, ma la realtà non funziona mai. Sorridi e annuisci, Brooks. Uh, stai benissimo, comandante. Come mai non ti avevo mai visto agghindato così? Era il mio asso nella manca. Come fate a mantenere la calma? Beh, so che avete affrontato un razziatore che combatteva un divoratore, quindi stasera... Rilassati, Brooks. Ok, va bene. Al lavoro. Stasera stai benissimo. Stasera stai benissimo. Comandante, se continuo a guardarti dovrai farmi la respirazione bocca a bocca. E forse qualcosina in più. Come fate a mantenere la calma? Beh, so che avete affrontato un razziatore che combatteva un divoratore, quindi stasera... Rilassati, Brooks. Ok, va bene. Al lavoro. Complimenti, Shabbat. Ho fatto del mio meglio senza cresta né cara pace. Beh, il tuo meglio mi lascia a bocca aperta. Wow. Io mi sono depilata le gambe e ho coperto la ferita con un mucchio di cipria. Sorridi e annuisci, Brooks. Stai benissimo. Senza crazza mi sento nudo e più morbido. Buona a sapersi. Come fate a mantenere la calma? Beh, so che avete affrontato un razziatore che combatteva un divoratore, quindi stasera... Rilassati, Brooks. Ok, va bene. Al lavoro. Stai benissimo, comandante. Un figurino. Anche tu. Anni di addestramento fisico sono serviti a qualcosa. Ok, tre donne tutte d'un pezzo pronte a dare spettacolo. Anzi, facciamo due. Stai benissimo, comandante. Un figurino. Mai fidarsi degli uomini troppo eleganti, lo sai? A proposito, qualcuno ha una lama Fattopum. L'etichetta del vestito mi dà un fastidio pazzesco. Sei una bomba, quella. Nel senso di splendida o più esplosiva del solito? Chissà. Oh, si vede ancora la ferita. Il Medigel dovrebbe assumere la pigmentazione della pelle, ma in realtà non funziona mai. Sorridi a noi, scibrux. Oh, stai benissimo, comandante. O mettevo questo o l'alta uniforme. Ma c'erano troppe medaglie. Posso essere il suo cavaliere, signore? Oh, bene. Wow. Uno spettro per braccio. Qualcuno dovrebbe farci una foto, nessuno ci crederà mai. Brux. Ok. Stasera stai benissimo. Fascino letale? Eh... Speriamo di no. Stai benissimo vestito così, Shepard. Se vogliamo dirla tutta, stasera non sarò io a spiccare per eleganza. Beh, spero ti riferissi a lei. Io stasera voglio spiccare il meno possibile. Complimenti, Shepard. Ho fatto del mio meglio senza Cristani e Carapace. Poteva andare per un giorno. Io mi sono depilata le gambe e ho coperto la ferita con un mucchio di cipria. Sorridi e annuisci, Brux. Complimenti, Shepard. Anche a te. È la tua alta uniforme? Sì, svantaggi delle culture militariste. Gli umani hanno più scelta in fatto di abiti formali. Come fate a mantenere la calma? Beh, so che avete affrontato un razziatore che combatteva un divoratore, quindi stasera... Rilassati, Brux. Ok, va bene. Al lavoro. Stai benissimo. Non è ermetico, ma può andare. Almeno tu puoi cambiare abito. E io, al massimo, posso indossare le mie cinture migliori. Bene, ci siamo. Tre donne brillanti e sofisticate che vogliono divertirsi. Beh, facciamo due. Stai benissimo. Meno male. Era una vita che non mi vestivo elegante. Forse manca qualcosa. Adesso è perfetto. Ah, sembro un idiota. Fa finta che sia una mimetica, per non spaventare la preda. Allora serve una preda più grossa. Ok, di bene. Se tutti fissano il Krogan, nessuno baderà a me. Ah, sembro un idiota. Bel vestito, comandante. Stai bene così in tiro, James. Dovevo scegliere tra collo alto e fondotinta. Meglio il primo. Mi pare che manchi qualcosa. Magari qualche accessorio. Tu dici? Per esempio? Molto meglio. Bel vestito, comandante. Ti sei dato una bella ripulita, James. Dovevo scegliere tra collo alto e fondotinta. Meglio il primo. Mi pare che manchi qualcosa. Magari qualche accessorio. Tu dici? Per esempio? Molto meglio. Questi costumi del cerimonio non sono corazzati. Il mio è adatto alla serata. Forse dovevamo prenderti uno smoking vecchio stile. Tutto è inutile. Se la mia identità è nota, serve dissimilarla. Ogni tanto si può fare per divertimento. Ok. Se fissano il proteano non baderanno a me. Perfetto. Ottimo piano. Ok. Questi costumi del cerimonio non sono corazzati. Il mio è adatto alla serata. Forse dovevamo prenderti uno smoking vecchio stile. Tutto è inutile. Se la mia identità è nota, non serve dissimilarla. Vabbè, allora facciamolo per divertimento. Ok. Se fissano il proteano non baderanno a me. Perfetto. Ottimo piano. Ok.